A parte oggi la raccolta di firme per 5 referendum per cancellare l'infame riforma Fornero sulle pensioni, per cancellare i prefetti e per cancellare la legge Merlin, per regolamentare e togliere dalle strade e tassare la prostituzione. Domani e domenica saremo in oltre 1.400 piazze e da lunedì in tutti gli 8.000 comuni italiani. Quindi chiunque stia passando da Via Dante, sia un cittadino in regola e penalmente tranquillo, sia 3 minuti da dedicarci, proviamo a cancellare la Fornero, sia come legge che come ministro, la Merlin e le prefetture. Occorre solo la carta di entità in vigore, la pieghera che vi faccio è di fare una fila alla Svizzera e quindi se riusciamo a metterci in fila indiana su due colonne, nessuno passa davanti a quello che sta aspettando da qualche minuto in più. Scusa, la data di vi lascia, la data di vi lascia, la data di vi lascia, la segnata.